Ciao Arturo. Ciao Matteo. Come va? Bene, grazie. Bene, bene. Hai già provato il nuovo dimmer della BTC? Nuovi dimmer? No, guarda, no, e poi io dimmer non ne monto più. Sono più problemi che altri. Guarda, io lo sto proponendo in tutti i miei nuovi impianti. I miei clienti sono contentissimi e do più valore al mio lavoro. Un successo. Ma dai, non prendermi in giro, lo sai anche tu. Per ogni lampada ci vuole un dimmer specifico e le lampade sono come le scatole di cioccolatini, non sai mai quello che ti capi. Arturo, questo dimmer è universale. Cioè? Che va bene per qualsiasi tipo di lampada, sia dalle vecchie lampade aloge alle nuovissime lampade elette. Cosa vuoi dire? Ma quando sei cantiere, tu sai sempre che tipo di carico bisogna comandare? No. E quante volte ricevi telefonati ai tuoi clienti che si lamentano perché dopo aver cambiato da lampada il dimmer non funziona più? Ma vedi che mi dai ragione, è per questo che non monto più i dimmer. E invece ti dico che col nuovo dimmer universale tutti questi problemi sono risolti. Noi funziona sempre, con tutti i tipi di lampade dimmerabili. Cioè tutti i tipi di lampade dimmerabili funzionano? Bravo, proprio così. Guarda, proverò sul nuovo lavoro. Perché solo su un nuovo lavoro? Perché sarà complicato, non sarà mica come sostituire un interruttore. Esatto, proprio così. Giusto ieri in casa del mio vecchio cliente ne ho montato uno al posto di un interruttore. Stessi cavi, stesse connessioni. Certo, funziona senza neutro. Così possiamo proporlo in un nuovo cantiere come questo, oppure in una ristrutturazione. Eh ma sarà facile per noi installarlo, però convincere il cliente a spendere di più per esempio è molto difficile, lo sai. Hai ragione, ma mi hai provato a raccontargli tutti i vantaggi che si ha quando si ha un dimmer in casa. Cioè? Con un dimmer puoi aumentare il comfort. Ma pensa ad esempio ad un salotto. Luce bassa per un po' di relax. Luce alta ad esempio per una festa. O perché no in una camera da letto. No, guarda, va bene il comfort, ma resta comunque difficile per far spendere più a un cliente. È vero, ma in realtà nel tempo con questo nuovo dimmer il cliente risparmia. Una lampada dimmerata ad esempio del 50% consuma meno energia. Questo non lo sapevo. Ti assicuro che è proprio così. Con il nuovo dimmer universale Btcino il cliente ha un risparmio energetico e una volta che lo sanno sai quanto sono sensibili ai nostri clienti. Ora, mi hai convinto, ci proverò. No, non devi provarci, devi proporlo e installarlo fin dal tuo prossimo impianto. Va bene. E ricordati, più valore per te, più comfort e risparmio per i tuoi clienti. Sia negli impianti nuovi che ristrutturazioni. Esatto. Ciao Arturo. Ehi, ciao Matteo. Come va con il nuovo dimmer? Guarda, un successo. Clienti soddisfatti per il risparmio energetico e il comfort e più valore per noi installatori. Grazie. Prego. Grazie. 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 Grazie a tutti.